Dibattito quanto mai attuale in presenza di questo drammatico alluvione in Emilia-Romagna, peraltro tutti, sia il commissario che il presidente del comitato, tutti hanno espresso grande solidarietà e stanno praticando una grande solidarietà nei confronti dell'Italia e dell'Emilia-Romagna, in particolare in questi giorni. Come Abruzzo abbiamo portato anche l'esperienza ed era sintetizzata nel video che ha illustrato l'intervento del commissario Lenarci per la gestione delle crisi, in cui l'Abruzzo è un modello di resilienza, lo abbiamo dimostrato anche dopo gli eventi sismici, nella ricostruzione. Questa nostra esperienza ci porta a chiedere un approccio diverso dell'Europa, che sulle grandi catastrofi, sulle emergenze climatiche, sui disastri naturali, ha una capacità di risposta troppo bassa, poco reattiva, scarso coordinamento, non esistono strumenti forti di intervento su questo segmento. Molti colleghi italiani sono intervenuti, è evidente che l'Italia è un paese da questo punto di vista più esposto e più fragile, quindi sente più di altri l'esigenza di un intervento europeo in questo senso, che però non significa distrarre i fondi della coesione per utilizzarli per le emergenze, e anzi troppo spesso anche i governi nazionali, compreso il governo Draghi precedente, ha distratto 7 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per affrontare le emergenze che di volta in volta si sono trovate davanti, dal Covid, dalla bolletta energetica. I fondi della coesione devono essere preservati e valorizzati e focalizzati sulla riduzione del divario delle infrastrutture per ridurre le differenze tra le aree deboli e le aree forti dell'Europa e anche all'interno dei singoli Stati nazionali. Non può diventare il fondo che si saccheggia ogni volta che c'è un'emergenza, anche perché purtroppo le emergenze si ripetono frequentemente. Bisogna però da parte dell'Europa individuare e costruire strumenti di intervento, di azione, un coordinamento più forte a livello di protezione civile delle diverse nazioni e un fondo specifico per affrontare le emergenze e per fare in modo che la capacità di risposta sia molto molto più rapida.